Era un signore che girava sempre col pastrano e che veniva chiamato ministro. Con le voci soliste di Chiara e Federica, ascoltiamo Campane de Hunic. Con le voci soliste di Chiara e Federica, ascoltiamo Campane de Hunic. Con le voci soliste di Chiara e Federica, ascoltiamo Campane di Hunic. Con le voci soliste di Chiara e Federica, ascoltiamo Campane di Hunic. Con le voci soliste di Chiara e Federica, ascoltiamo Campane di Hunic. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.